salve a tutti amici un saluto al vostro corrado esposito personal trainer oggi andremo a allenare i tricipiti penultimo allenamento settimana prossima si chiude la nostra avventura della massa 2023 quindi ci si butta sulla definizione oggi facciamo gli ultimi tre esercizi perché ricordo che io avendo la possibilità di avere la palestra in casa faccio ogni giorno un muscolo diverso oggi facciamo solo i tricipiti normalmente come gli allenerei se dovessi raggrupparli con altri gruppi muscolari farei due esercizi soli più importanti che sono per l'appunto tricipiti french press col bilanciere e farei vari esercizi al cavo una volta farei il push down normale una volta preso inversa farei vari esercizi del genere invece avendo la possibilità di fare ben tre esercizi perché faccio solo i tricipiti oggi mi impegno a variare a mettere un esercizio in più che adesso vedrete allora ragazzi vi ricordo che il tricipite è la più grande parte del braccio vi faccio vedere qua il braccio è due terzi tricipite un terzo bicipite quindi non vi concentrate solo sui bicipiti perché poi le braccia non vi crescono dovete allenare tutto io sono del dell'idea e questo l'ho imparato solo negli ultimi 5 6 anni che bisogna allenare tutto il corpo io per anni non ho allenato le gambe poi non ho allenato i lombari alcune parti del corpo gli avambracci ora alleno tutto tutto pet spalle dorsali braccio avambracci tutto tutti i corpi le gambe non mi interessa perché bisogna avere un corpo completo se non avete un corpo completo ragazzi a parte che non avrete forza ogni muscolo ti aiuta ad avere più forza a fare un esercizio vi ritroverete solo male quindi come al solito vi iscrivetevi al canale lasciate un like se mi piacciono i miei video dai partiamo con questo allenamento per i tricipiti iscrivetevi al canale eccoci qua ragazzi allenamento finito c'è un po' il fiatone ma va bene così ci siamo allenati tricipiti stra confi spero vi sia piaciuti non vi sto mettendo tante spiegazioni perché più o meno chi fa palestra e esercizi li sa quindi anche per fare video un po' più brevi sennò durerebbero di più questo è il penultimo allenamento vediamo settimana prossima se vale la pena vi farò l'ultimo allenamento della massa di tutti i gruppi muscolari fatemi sapere pure nei commenti se vi interessa o non vi interessa sto a fare degli allenamenti cuciso per passatempo no mi devono anche piacere questi video informativi perché sono importanti quindi spero che sia tutto chiaro se avete dei dubbi scrivetevi nei commenti ci vediamo nel prossimo video e al vostro corso dell'esposito